Benvenuti nell'area espositiva Cristi ad ISE 2015, mi presento, sono Angelo Tacca, responsabile di Cristi per Italia e Malta. Cristi in occasione di questa edizione presenta tutta una nuova gamma di prodotti che si integrano alla gamma già ricca di sistemi di visualizzazione e gestione di immagini. Il prodotto di punta in occasione di questa edizione è il più interessante, il nuovo sistema di proiezione Boxer, il 4K30, caratterizzato da una luminosità di 30.000 ansi lumens, con a bordo la tecnologia 4K True Life della Cristi a 60 fotogrammi per secondo, dimensioni molto compatte e di peso chiaramente limitato. Questo permette chiaramente agli operatori nel settore del mondo del noleggio di avere a disposizione un prodotto semplice da utilizzare, maneggevole e con caratteristiche dal punto di vista di luminosità e risoluzione ai più alti livelli. Un altro prodotto interessante che ha avuto chiaramente un'evoluzione per quanto riguarda il suo range è il prodotto Rodi, che ha avuto questa evoluzione e si evolve verso il 4K con due nuovi modelli, il 4K35 e il 4K45. L'ultimo è il prodotto attualmente con la luminosità più elevata sul mercato internazionale. La famiglia di prodotti Brio si arricchisce di tre nuovi modelli, Brio Team, Brio Team Plus e Brio Enterprise. Sono chiaramente sistemi per la gestione collaborativa dell'informazione all'interno delle sale, riunioni e presentazione. Cristi inserisce nella sua linea di sistemi di visualizzazione anche i LED Wall, integrando la nuova linea di prodotti Velvet caratterizzati da sistemi LED Wall con passo 1.9, 2.5, 3 e 4. Questo tipo di prodotto si integra già agli altri prodotti di visualizzazione per fornire al mercato un sistema integrato di soluzioni di visualizzazione. Un'altra importante novità da parte di Cristi è l'acquisizione di Colux. Con l'acquisizione di Colux Cristi si propone sul mercato come solution provider per soluzioni chiave in mano, per sistemi di visualizzazione e gestione delle informazioni e immagini. Con questi nuovi prodotti sul mercato italiano il nostro obiettivo è quello di creare un nuovo livello qualitativo al mercato per quanto riguarda le tecnologie. Cristi è sempre stata leader in questo settore e questo sarà chiaramente il nostro obiettivo futuro, è quello di introdurre queste nuove tecnologie per migliorare la qualità dei prodotti, la flessibilità dei prodotti all'interno del mercato italiano. Il nostro fuoco è chiaramente nel mondo delle installazioni fisse, nel mondo del noleggio, dove andremo a proporre queste soluzioni, chiaramente per agevolare il lavoro dei nostri clienti. È chiaro che Cristi con i suoi prodotti si posiziona a un livello altissimo per quanto riguarda i livelli di luminosità che può proporre al mercato. Chiaramente questi nuovi prodotti permettono di aprire nuovi fronti per quanto riguarda le applicazioni. Una delle applicazioni che stanno diventando sempre più frequenti sono il videomapping e chiaramente questi tipi di applicazioni hanno bisogno di elevate luminosità in quanto si devono andare a illuminare facciate di palazzi e di conseguenza luminosità e risoluzione sono elementi fondamentali per poter agevolare chiaramente la realizzazione di queste applicazioni. Ne ringraziarvi per l'attenzione che ci avete dedicato, siamo a vostra disposizione per eventuali ulteriori informazioni e potete contattare il nostro ufficio italiano. Grazie.